quest'estate a balmoral sarà la prima senza la regina elisabetta seconda mentre la famiglia reale si riunisce al castello scozzese ma non tutti parlano balmoral non sarà più la stessa quest'estate era ovviamente la residenza privata preferita della defunta regina un castello situato su 50.000 acri dove trovò felicità e pace i reali mi è stato detto hanno sentimenti contrastanti sul fatto di restare lì quest'estate arrivando fino a un anno dopo la sua morte lì la regina camilla non è particolarmente entusiasta del castello baronale scozzese pieno di spifferi e preferisce le comodità di bircol la casa delle island che charles è ereditato dalla regina madre nel 2002 il soggiorno della defunta regina di solito iniziava alla fine di luglio o all'inizio di agosto e durava fino all'inizio di ottobre charles che ha visite ufficiali all'estero in francia e kenia per adattarsi a questo autunno arriverà due settimane dopo e interromperà anche la sua pausa scozzese in primo luogo carlo e camilla alloggeranno nell'altra vecchia casa della regina madre il castello di mea kaitnes affacciato sul pentland firth si dirigeranno quindi nella loro accogliente casa scozzese bircol per una settimana prima di arrivare finalmente a balmoral un paio di settimane dopo rispetto a quanto avrebbe fatto la defunta regina nonostante le riserve di camilla il re ha stabilito che devono rimanere a balmoral per ricevere il primo ministro rishi sunak e sua moglie per la regina elisabetta era soprattutto un posto felice dal suo fidanzamento segreto con il principe filippo nel 1946 a un delizioso barbecue di famiglia con suo marito come chef adorava il posto